Per Daltanius penso un pane giù E l'emico non esiste in più E Daltanius che... Arriva finalmente su Manga Il robot dal cuor di leone Che tutto disintegra quando gli girano le lame Boomerang Daltanius, il robot del futuro Da lunedì al venerdì alle 20 e 25 Solo su Manga Daltanius vince! Daltanius vince!